Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire con quello che sarà un lungo corteo di 50 trattori e che raggiungerà il Consiglio regionale del Molise partendo da Contrada San Giovannello. La manifestazione è stata organizzata dal neocomitato spontaneo agricoltori e allevatori molisani e l'intento è quello di sollecitare provvedimenti urgenti contro i cinghiali e aiuti economici per alleviare l'aumento incontrollato dei costi di produzione causato dalla guerra. In Ucraina il servizio di apertura è di Enzo Di Gaetano. Tutti in corteo da San Giovannello dove ci sarà il concentramento dei mezzi agricoli fino al Consiglio regionale. Scopo della manifestazione di protesta organizzata a Campobasso dal neocomitato spontaneo di agricoltori e allevatori molisani è quello di sensibilizzare il Consiglio regionale ad approvare al più presto una serie di misure a sostegno delle attività produttive di agricoltori e allevatori. Nel mirino i danni prodotti dai cinghiali e l'aumento incontrollato dei costi. L'appuntamento è alle 10 a San Giovannello. Da lì il corteo dei 50 trattori autorizzato dalla prefettura di Campobasso partirà per arrivare fino a Palazzo Daimmo dove ci sarà la manifestazione vera e propria con gli interventi degli organizzatori che sperano di poter incontrare anche rappresentanti di Giunta e Consiglio. Vogliamo solo far sentire la voce degli agricoltori e degli allevatori di un intero settore che possiamo anche allargare i tartufai e altri operatori agricoli che purtroppo in questo momento sono in grandissima sofferenza. Si produce in perdita. L'avanzamento dei cinghiali ormai è diventato un filo conduttore che raggruppa tutta la regione se non anche le altre regioni limitrofe. Vogliamo solo portare il nostro grido all'attenzione di chi deve prendere determinate decisioni e per questo gli diamo a tutti indistintamente, senza distinzione di colori, di appartenenze, di starci vicino e di aiutarci. Oltre a cinghiali e costi di produzione un altro evento preoccupa il Comitato. Si tratta del futuro allargamento della perimetrazione del nascituro parco del Matese. L'ulteriore tutela di cinghiali e cervi porterà ad una esplosione demografica delle due specie, tale da distruggere completamente l'agricoltura del territorio ricompreso nel parco. Noi non siamo contrari al parco. Anche noi potremmo vedere, vediamo il parco come magari strumento di sviluppo del territorio. Ovviamente il parco però va adattato alle esigenze del territorio. Non si può, secondo noi, portare un parco, allargare il perimetro del parco così come è stato fatto, così come è stato proposto di fare, fino alla statale e anche oltre, inglobando tutte le maggiori partite di terreno produttivo. Che fra le altre cose, insomma, anche l'ulivo che è ritenuto un prodotto di pregio, inglobato all'interno di un parco, ne sangerà la distruzione, perché non potendolo proteggere dall'invasione che ci sarà certamente dei cervidi, sarà impossibile tutelare quel tipo di prodotto. E parliamo di politica perché intanto si preannuncia in salita la sessione di bilancio regionale 2022 tra lungaggini legate agli uffici e fibrillazioni. Nella maggioranza non è ancora stata fissata la data di discussione, non si era mai andati così avanti nei tempi. Ce ne parla Pasquale Di Bello. È l'ultimo bilancio della legislatura regionale in corso e sarà un bilancio inevitabilmente politico legato alle scadenze elettorali della primavera 2023. Obiettivo di tutti i consiglieri regionali senza distinzioni tra maggioranza e opposizione è quello di mettere la propria firma, almeno su un emendamento, un capitolo, semplicemente una cifra o un numero, su quello che tecnicamente dovrebbe essere un documento di previsione che di fatto arriva quasi a metà dell'anno che doveva essere previsto e che invece per metà se n'è già andato. Misteri della politica e soprattutto della burocrazia. Si registra infatti un malumore fortissimo nei piani alti del palazzo per quelle che con un eufemismo vengono definite lungaggini burocratiche ma che in realtà vengono percepite come ostacoli di un percorso che più si allunga e più si fa irto di difficoltà. In previsione infatti ci sono un numero considerevole di emendamenti la cui provenienza è soprattutto tra le fila della maggioranza. Un puzzle difficile da comporre proprio per le ragioni che spingono ogni attore politico alle elezioni regionali del 2023. Quello messo in campo da Toma è un tentativo di ascolto generale delle istanze dei singoli consiglieri chiamati a votare il bilancio. Un tentativo che dovrebbe ridurre al minimo le proposte di modifica che arriveranno in aula ma che non è detto riesca. Al contrario la tentazione di uno sgambetto sull'atto programmatorio più importante della regione è forte. Prevarrà come sempre l'istinto di sopravvivenza della classe politica e il bilancio è destinato a passare seppur con una maggioranza risicata. Intanto nessuno sa quando ciò accadrà. Il documento dopo il passaggio in giunta regionale non è nel calendario del prossimo consiglio regionale. Anzi non c'è nessun consiglio al momento convocato per discutere il bilancio 2022. Andando a memoria non si ricorda uno slittamento dei termini così lungo un fatto che inevitabilmente va ad incidere negativamente sulle risposte da fornire alle tante questioni aperte. Ora parliamo della pandemia perché sono 432 i nuovi contagi in Molise sui 1899 tamponi refertati con un tasso di positività che si attesta al 22,7%. Il dato emerge dall'ultimo bollettino ASREM che riporta anche due nuovi ricoveri in infettivi e tre pazienti dimessi da quello stesso reparto. I ricoverati per Covid al Cardarelli sono 39 di cui 26 in malattie infettive, 12 in anziano fragile e uno in terapia intensiva. Resta Campobasso il centro più colpito dal virus con 90 casi seguito da Termoli con 45 e Isernia con 28. Ci sono tuttavia anche 509 guariti. Gli attualmente positivi in tutta la regione sono 8.910. Ora la cronaca. Hanno portato via medicinali per migliaia di euro dal deposito della farmacia del Cardarelli di Campobasso i ladri che hanno agito nel fine settimana potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere. Della videosorveglianza sull'accaduto sta indagando la polizia del capoluogo. Ce ne parla Enzo Luongo. Ha del clamoroso il furto messo a segno nel fine settimana appena trascorso all'ospedale Cardarelli di Campobasso. I malviventi dopo aver demolito un muro di mattoni sono entrati nel deposito dei medicinali nel semi-interrato dell'edificio di Tappino e hanno rubato farmaci di vario tipo per svariate migliaia di euro. Stamattina gli addetti della farmacia del Cardarelli hanno provveduto a fare un inventario dei medicinali portati via ed è arrivata la conferma che il bottino è stato ingente. E' qui che i malviventi sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica una zona che a quell'ora era evidentemente deserta. Ci troviamo proprio accanto all'obitorio dell'ospedale Cardarelli nella zona dove è stato allestito l'ingresso per i pazienti Covid da quando c'è la pandemia. Qui a piano terra c'è il deposito della farmacia dell'ospedale. Questa finestra era una finestra murata. I ladri hanno agito per un certo numero di minuti indisturbati perché hanno avuto tutto il tempo di demolire letteralmente questo muro. Vedete i calcinacci che sono a terra hanno rotto, hanno diventato anche l'inferriata e sono entrati all'interno prelevando i farmaci. Qui a terra vedete ci sono ancora tutti i segni di quello che è accaduto. Adesso è stata fatta una copertura provvisoria con delle scatole di cartone e con un pezzo di compensato. Qui vedete a terra ancora evidenti i segni del colpo avvenuto nella notte tra sabato e domenica con il quale sono stati rubati i farmaci all'interno del Cardarelli. I ladri comunque ad un certo punto del colpo sarebbero stati costretti alla fuga perché il sistema d'allarme dell'ospedale intanto entrato in funzione ha fatto intervenire la vigilanza. La banda è arrivata sul posto ed è fuggita a piedi per alcune centinaia di metri considerato che è impossibile arrivare con le auto davanti ai locali svaliggiati. L'accesso all'area è infatti interdetto da queste sbarre. Qui sono in funzione anche delle telecamere che riprendono le persone in entrate e in uscita probabile dunque che i ladri abbiano agito a volto coperto. I filmati saranno comunque ora decisivi per le indagini che sta svolgendo la Polizia. Cambiamo argomento. Le segreterie di funzione pubblica CGL Molise, CISL, Abruzzo Molise, Will Molise fanno sapere di aver messo a disposizione i propri uffici legali per offrire le consulenze ai candidati che hanno partecipato al concorso ASREM a Roma lo scorso 27 aprile e di essere pronte a eventuali azioni legali nelle more della richiesta di chiarimenti inoltrata all'azienda sanitaria regionale. Antonio Amantini, Anna Valvona, Tecla Boccardo, segretari dei tre sindacati, ribadiscono di aver ricevuto numerose segnalazioni in merito ai forti disguidi avvenuti durante lo svolgimento del concorso indetto da ASREM che ha visto la partecipazione di 4.000 candidati per 45 posti da infermiere e 5 posti da OSS la cui prova scritta si è svolta, come vedete nelle immagini, a Roma. Prosegue, seppure a rilento, la campagna vaccinale. In Molise sono appena 1.500 le quarte dosi somministrate. Intanto da oggi resta operativo solo il centro vaccinale del Cardarelli mentre quello di Selva Piana proprio da oggi ha chiuso i battenti. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Il Covid circola ancora ma rispetto al passato abbiamo armi in più per combatterlo. È caduto l'obbligo delle mascherine anche al chiuso fatte le dovute eccezioni. Eliminato anche il Green Pass il paese si avvia verso un graduale ritorno alla normalità. In Molise cambiano anche le regole che riguardano le vaccinazioni. Da oggi resta aperto a Campobasso solo il centro vaccinale dell'ospedale Cardarelli mentre quello del Selva Piana allestito all'interno della cittadella dell'economia aperto il 17 aprile 2021 in piena pandemia da oggi è chiuso anche per effetto della scadenza della convenzione con il comune di Campobasso che è proprietario della struttura. Lì erano state somministrate oltre 102.000 dosi di vaccino anti-covid. Il centro hub del Cardarelli sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14. Intanto va avanti la campagna vaccinale anche se non con i ritmi dei mesi scorsi eppure sono ancora tanti molisani che non hanno ricevuto neppure la prima dose o che non hanno concluso il ciclo vaccinale. Procede molto a rilento la vaccinazione per la quarta dose riservata come noto ai soggetti fragili e agli over 80. Di questi 22.000 hanno ricevuto il booster mentre solo 800 hanno fatto la quarta dose. Le quarte somministrazioni in totale sono appena 1.500. Va ricordato che per essere vaccinati sarà necessario prenotarsi sull'apposita piattaforma. E la Solutions SRL di Bari si è aggiudicata il servizio di gestione e manutenzione e assistenza tecnica dell'eli superficie dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. La ditta ha offerto un ribasso del 36% sull'importo complessivo a base dell'affidamento che ammonta 73.000 euro comprensivo di 3.700 per oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso. E ora andiamo a Termoli perché dal prossimo 7 maggio partirà un corso di formazione politica promosso dal Comitato Santimoteo una serie di incontri culturali e di approfondimento su tutto ciò che ha a che fare con la gestione della cosa pubblica ci saranno relatori di spessore l'iniziativa è patrocinata dagli ordini degli avvocati e dei giornalisti ce ne parla Andrea Nasillo. Un vero e proprio corso di formazione politica un ciclo di incontri culturali riguardanti principalmente temi come la Costituzione italiana l'Europa gli enti locali e la comunicazione otto incontri gratis con relatori di spicco Giuseppe Astore Remo di Giandomenico Antonio D'Ambrosio Giovanni di Stasi Gianfranco Vitaliano Don Marcello Paradiso Francesco Cocco e Antonello Barone direttore del corso Giovanni di Giandomenico l'iniziativa proposta dal Comitato Santimotio come momento per approfondire tutto ciò che ha a che fare con la gestione della cosa pubblica è rivolta a tutti i cittadini in primi sei giovani interessati e che intendono affacciarsi ad un mondo quello della politica dal quale forse delusi si sono da tempo allontanati effettivamente è un ciclo di incontri culturali che tratta degli argomenti diciamo di politica e del bene comune è rivolta a tutti i cittadini soprattutto noi diciamo ai giovani per dare un momento di incontro e di apprezzione verso che da anni diciamo non vediamo più la partecipazione molto giovanile è rivolta a tutte le categorie indistintamente si parte il 7 maggio per otto settimane di fila sempre di sabato l'iniziativa patrocinata dagli ordini degli avvocati e dei giornalisti abbiamo patrocinato il corso di formazione organizzato al comitato santimoteo sia per per l'iniziativa in sé sia perché si trattano temi ed argomenti di carattere anche oltre che politico ma tecnico e giuridico in modo particolare il sistema costituzionale italiano e il sistema costituzionale europeo e una riflessione su questi temi è assolutamente utile all'ordine degli avvocati ma non soltanto all'ordine degli avvocati il contesto complessivo impone probabilmente una riflessione di carattere più ampio degli aspetti soltanto tecnici oltre ad argomentazioni di natura amministrativa io volevo sottolineare l'importanza di alcuni corsi di alcune elezioni non solo sull'Unione Europea ma anche sul concetto di rappresentanza perché vede il Molise alle prese con questo problema relativo alla propria dimensione quindi io invito i colleghi di Termoli ma insomma del Basso Molise ma anche di fuori regione a partecipare perché i relatori sono di altissimo livello è un corso gratuito io stesso vorrò partecipare perché ascoltare gli altri significa essere arricchiti dagli altri sono stati tagliati in Molise 15 posti del personale tecnico e ausiliario della scuola secondo il segretario di categoria della CGL Pino Lafratta una decisione inaccettabile mentre l'organico complessivo nazionale del personale amministrativo resta sostanzialmente invariato in Italia i posti tagliati sono in tutto 46 e quindi il numero regionale è elevato il sindacato di categoria chiede la proroga dei contratti covid previsti una soluzione necessaria per sopperire alla carenza di organico che caratterizzerà l'anno scolastico 2022-2023 sulla base della ripartizione effettuata dal ministero questo è il commento di Pino Lafratta e ora andiamo a Casa Calenda dove gli studenti dell'istituto omnicomprensivo hanno marciato per la pace per le vie del centro cittadino hanno voluto dimostrare solidarietà con le vittime e gli oppressi di tutti i 59 conflitti che sono in corso nel mondo con un pensiero particolare naturalmente ai bambini ucraini c'era per noi Francesca Danversa Un messaggio d'amore è quello che hanno voluto trasmettere gli studenti dell'istituto omnicomprensivo di Casa Calenda marciando per la pace per le vie del centro cittadino all'incirca erano 200 gli studenti che hanno preso parte alla manifestazione nelle classi dell'infanzia e primaria di Casa Calenda e Morone del Sagno la pluriclasse di Ripa Bottoni le prime classi dell'istituto professionale dell'istituto tecnico economico e le seconde del liceo di scienza umana e del liceo linguistico l'iniziativa nata da un'idea della vicepresida insegnante della scuola dell'infanzia Sonia Melfi la decisione di farla durante l'orario scolastico proprio perché considerata un momento formativo ed educativo l'evento molto sentito dai più piccoli dai giovani studenti e gli insegnanti che hanno accompagnato le classi hanno assolto il loro compito culturale educativo non è stata la classica manifestazione organizzata dai ragazzi per non stare in classe ma un momento di riflessione di sensibilizzazione ai valori della pace e della fratellanza tra i popoli ha precisato la scuola in una nota dal nostro piccolo paese Casa Calenda parte un movimento di pace che vuole abbracciare tutta l'Europa per arrivare a Kiev e Mosca dichiara Sonia Melfi perché nessun paese è lontano siamo tutti molto vicini lo abbiamo scoperto in questo tempo di covid nessuno si salva da solo bisogna rimanere uniti anche la sindaca di Casa Calenda ha commentato dal suo profilo facebook la manifestazione organizzata dall'Istituto Omnicomprensivo è il futuro che vuole la pace ha scritto Sabrina Dallitto riferendosi agli studenti ma quelli che non riescono a sedersi per fare la pace i grandi da cui questi ragazzi dovrebbero prendere esempio eppure sono quelli che hanno in mano il loro futuro il consiglio comunale di Riccia come tanti altri consigli comunali è impegnato nella lotta ai cinghiali che in quel territorio ha spiegato il sindaco Pietro Testa sono diventati una vera e propria piaga scriveremo al ministro delle politiche agricole Patuanelli ha annunciato il sindaco Testa chiedendo di attivarsi con tutti i mezzi possibili per la tutela del patrimonio agricolo sociale ed economico del nostro territorio servono misure urgenti ha concluso il sindaco di Riccia per fronteggiare questa emergenza che oltre a causare ingenti danni agli agricoltori rappresenta ormai una minaccia per l'incolumità e la sicurezza delle persone che percorrono le nostre strade successo per il concerto del primo maggio all'auditorium di Isernia a posti esauriti per l'evento che ha visto protagonista non solo la musica ma anche danza e spettacolo l'idea del concerto affidato alla direzione artistica del pianista Simone Sala e del tenore Paolo Bartolucci è stata appoggiata dalla CGL regionale e patrocinata dal comune di Isernia c'era per noi Valeria Migliore una sala gremita all'auditorium di Isernia per il concerto del primo maggio organizzato dal pianista Simone Sala e dal tenore Paolo Bartolucci in collaborazione con la CGL e il comune di Isernia alla base dell'evento la necessità quanto mai urgente di sensibilizzare il pubblico sulle importanti tematiche legate alla pace e al lavoro in questo particolare momento storico davvero una gran bella serata all'insegna di queste due tematiche importanti della pace del lavoro ma anche appunto della grande musica ecco nel primo giorno tra l'altro in cui decadono le regole quindi è anche un buon auspicio questo concerto è stato un caso non è stato voluto però bel colpo di fortuna cominciare e tornare sul parco il primo maggio con la legadenza del Green Pass mi sembra proprio un bel segno che l'universo ci vuole dare per dirci insomma che siamo sulla strada buona credo parliamo comunque di musica classica Isernia è pronta a capire questo tipo di sensibilità Isernia ha dimostrato già in passato di essere pronta a capire questo tipo di sensibilità chiaramente bisogna far sì che gli eventi aumentino e che chiaramente si crei un gusto e un'abitudine a parteciparvi questa è una cosa fondamentale quindi la parola chiave è continuità sì è continuità incrociamo le dita e speriamo che tutto possa andare per il verso giusto al centro dello spettacolo anche il quarto premio dei talenti musicali della nostra terra uno a Donato di Gioia Baritono di Campobasso come riconoscimento alla carriera e l'altro al soprano Lorena Grazia Scarselli come giovane talente Teodernino vincitrice di concorsi internazionali di canto lirico Ancora un Open Day in Università del Molise il 3 maggio è la volta dell'area economica giuridica ed è protagonista del terzo dei quattro incontri online previsti dal programma Made in Unimol Open Day si ripropone quindi come penultimo evento l'orientamento dell'Università degli Studi del Molise pensato per prevedere consentire e favorire una partecipazione totalmente libera e aperta sulla piattaforma Teams l'obiettivo anche questa volta è puntato sui singoli corsi di laurea Unimol economici e giuridici lasciando inalterata la formula dell'invito rivolto a tutti maturandi e maturande aspiranti matricole famiglie scuole docenti dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia a Santa Croce di Magliano si rinnova la tradizione della Madonna dell'incoronata con la benedizione degli animali il servizio è ancora di Francesca D'Anversa grande emozione e partecipazione per il ritorno della festa popolare della Madonna dell'incoronata Santa Croce di Magliano organizzata dal comitato feste della parrocchia con il patrocino dell'amministrazione comunale con la collaborazione dell'associazione GEPA finalmente siamo tornati a celebrare questo rito e vediamo che è molto seguito dal popolo anche dai paesi limitrofi significa che non è solo bella perché vediamo tutti gli animali che portano a benedire è bella anche perché la gente trova questo giorno per incontrarsi da sempre perché prima la gente della campagna coglieva l'occasione in questo giorno per tornare e per essere in qualche modo pure gli animali e i contadini chi lavoravano nelle campagne ad essere protagonisti di questa festa bellissima la festa dell'incoronata è legata a quella omonima venerata a Foggia il culto affonda le sue radici nel racconto del prodigio avvenuto nel bosco del Cervaro dove la Madonna è apparsa su una quercia con due angeli e chiede a un contadino di costruire in quel luogo una chiesa il momento più sentito è quello della benedizione degli animali che dopo aver fatto tre giri di rito intorno alla chiesa di San Giacomo Apostolo proprio come i tempi della transumanza prima di partire vengono poi benedetti ai piedi del campanile al cospetto della Madonna i cavalieri e i pastori indossano la treccia a un formaggio a pasta filata tipica di Santa Croce di Magliano preparata dalle donne simbolo del rapporto tra uomo e animale un ritorno alla fioritura tutto il bello che viene con la nuova stagione quindi la festa si rifà al periodo della transumanza quando i pastori partivano dalla zona di San Paolo dove ci sta questa chiesetta dove c'è stata questa apparizione della Madonna incoronata un segno di speranza guardando il cielo vediamo che c'è questo sole che splende è un sole che illumina e riscalda e anche l'affetto di chi ecco è in cielo che ci dice ripartite perché la vita continua ha bisogno di dare sapore a ogni gesto che noi facciamo e questa giornata certamente lo vogliamo vivere con questo spirito chiedendo la protezione della Madonna perché ogni cosa possa essere ben fatta e fatta secondo il piano di Dio si intitola segni, colori e forme nel nuovo millennio ed è la mostra di Antonio Corbo artista campobassano apprezzato in tutto il mondo allestita negli spazi del palazzo ex Gil alla fondazione Molise Cultura a Campobasso resterà aperta fino al prossimo 26 giugno e ce ne parla Tonino Danese i segni, i colori e le forme che raccontano l'interiorità e l'arte di Antonio Corbo artista campobassano ormai apprezzato in tutto il mondo in luoghi importanti che è tornato a esporre nella sua città negli spazi del palazzo ex Gil fondazione Molise Cultura un'antologica curata da Silvia Valente che racchiude il meglio dei lavori di Corbo negli ultimi 20 anni di forte impatto scenico eleganti nelle forme e nei colori con un chiaro disegno concettuale cercando di fissare alcuni itinerari all'interno della mostra su 5 filoni che sono le teorie del cosmo il sublime l'estetica paradisiaca l'introspezione e penso che nella mostra attraverso le immagini dei quadri si possa percepire anche voglio sperarlo lo stato d'animo del pittore la sua sensibilità la mostra inaugurata sabato resterà aperta fino al 26 giugno dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 patrocinata da Regione Fondazione Molise Cultura Provincia e Comune di Campobasso con il sostegno di Banca Popolare delle Provincie Molisane Gruppo TCN e Momarredi una mostra che ci tengo a sottolinearlo è il risultato di un lavoro sinergico anche con la sfera dei privati lo sottolineo perché spesso si tende a dimenticare quanto sia importante il coinvolgimento dei privati in operazioni culturali parlo ad esempio dei collezionisti collezionisti che hanno messo a disposizione le loro opere per dare la possibilità di raccontare in maniera più compiuta questo percorso artistico ma anche grazie a quelli che convenzionalmente vengono definiti sponsor ma che io preferisco definire degli amici gli amici della cultura gli amici dell'arte una mostra coerente con le finalità della fondazione Molise Cultura nell'organizzare gli eventi e siamo anche molto felici che ci sia questa sorta di passaggio di testimone da Boldini ad Antonio Corbo al maestro Corbo che sta a sottolineare in fondo quella che è stata sempre la nostra filosofia non fare dialogare grandi figure del nostro territorio che hanno girato il mondo che hanno avuto l'imprimatur un po' dovunque da New York a Dubai che riportano qui nel nostro Molise la loro straordinaria esperienza e che uniscono le radici con il mondo che hanno attraversato con altri grandi artisti di fuori regione Intanto alla mostra di pittura organizzata dai beneficiari dei progetti SAI e Integra Mondo è intervenuto anche il sindaco di Campobasso Roberto Gravina c'era per noi Gianni Bruno sentiamo Con il sindaco di Campobasso Roberto Gravina siamo alla mostra espositiva dei quadri realizzati dai beneficiari dei progetti SAI Caribù e Integra Mondo gestiti dalle cooperative sociali ASSEL e Agorau una maniera per promuovere l'integrazione è certo ma come oggi tra l'altro è attuale visto che comunque come è stato ricordato c'è anche questo delicato momento che attraversa il popolo ucraino quindi anche l'accoglienza che è stata data e che viene per fortuna costantemente data non solo a livello italiano ma evidentemente anche a livello molisano e anche per il tramite appunto di questi importanti supporti associativi i lavori tra l'altro parlano da soli sono lavori di davvero bella qualità quindi doppi complimenti a coloro che seguono il progetto quindi una maniera per rendere più facile l'integrazione fra i beneficiari di questi progetti e la popolazione di Campobasso non solo perché questi progetti sono poi esportati anche in altri comuni della provincia di Campobasso ma Campobasso è una città accogliente devo dire da sempre per fortuna e assolutamente sì questi progetti contribuiscono affinché l'accoglienza non sia soltanto appunto una parola vuota ma proprio in termini fattivi sia una realtà ed è per questo che insomma promuoviamo e continuiamo a promuovere questo tipo di iniziative era l'ultimo servizio siamo in chiusura ma c'è prima una notizia per i nostri amici a quattro zampe vi facciamo vedere la foto eccola qui di questa cucciola di Border Collie che ha due mesi ed è sola perché i cinghiali le hanno ucciso la propria mamma i vigili l'hanno trovata in giro per la città è molto docile affettuosa chiunque volesse adottarla o prendersene cura può come sempre contattare la nostra redazione termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise buonanotte grazie a tutti grazie a tutti